Nel borgo medievale stand con decori, composizioni, candele, prodotti tipici, musica e la baita con Babbo Natale, nascosti negli angoli e nei portoni i mille presepi per palazzuolo. Tante iniziative celebrano il Natale, tra cui i mercatini e il Capodanno al Teatro Giotto. Domenica 15, mercatini e Babbo Natale con la Fabbrica dei Biscotti, al Teatro Pla, per Teleton. Ogni fine settimana, eventi che celebrano il Natale, pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza del Popolo e il celeberrimo presape meccanico all'Oratorio del Santissimo Crocifisso. Domenica 15 fino alle 13, mercato straordinario.